Il Comune di Lecce, quaderni del bardo edizioni di Stefano Donno, Navigli Poetry Slam, presentano Poesia EC, reading poetico e performance di Annelisa Dolorato il 18 luglio 2023 alle ore 20 presso la Biblioteca Civica Ogni Bene, ex convento degli Agostiniani in Viale Michele De Pietro, 10 a Lecce. La poetessa Annelisa Dolorato propone una performance adatta da adulti e bambini intitolata Poesia EC. Questo evento unisce la declamazione poetica, le arti marziali tradizionali cinesi, il Kung Fu Chang e il concetto di C, la nostra energia interna.